Anche l'assessore regionale allo sviluppo economico, Mino Borracino, condivide la posizione dura dei sindacati nei confronti di Arcelor Mittal. Gli esuberi annunciati sono assolutamente da respingere. La multinazionale utilizza strumentalmente la questione Covid per tenere la fabbrica al minimo con la richiesta abnorme di migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Così interviene Borracino che sottolinea come Mittal in questi mesi abbia continuato a disattendere tutti gli impegni assunti. A ciò si aggiunge la questione dei ritardi nei pagamenti alle aziende territoriali dell'indotto che aspettano le liquidazioni di lavori effettuati da molto tempo e adesso sono in serio rischio. E ora che il governo intervenga direttamente, chiede Borracino, abbiamo colto con soddisfazione l'annuncio che il ministro Patonelli ha fatto pochi giorni fa, essere pronta a un intervento diretto dello Stato per risolvere il problema dell'acciaio italiano nell'ambito del piano per supportare la siderurgia ecosostenibile non è più rinviabile il tema del rilancio di Taranto attraverso un investimento forte per affermare un nuovo modello di sviluppo che sappia coniugare lavoro e ambiente. Per l'esponente della giunta regionale è necessario nazionalizzare almeno per il medio periodo la fabbrica e individuare successivamente i produttori italiani o stranieri in grado di gestirla seriamente e allo stesso tempo intelligentemente saper attingere al Fondo Europeo per la transizione energetica e la decarbonizzazione.